Allora, buongiorno a tutti quanti, vediamo perfetto, ho appena cominciato a registrare il video, per chi non lo sapesse il mio nome è Pepo, Giuseppe, però tutti mi chiamano Pepo, quindi Pepo. In questo video voglio spiegare, non lo so, voglio fare un tutorial di Ninja Fruit Frenzy, ma a chi ci giocano, lo so, può anche risultare utile. Allora, spiegherò, non penso di farcela in un video, ma comunque spiegherò i vari achievements, i vari achievements, così si scrive, comunque spiegherò le varie cose, bla bla bla. Allora, partiamo subito perché non devo superare i 15 minuti. Allora, andate nella vostra pagina Facebook e scrivete nella barra di ricerca Ninja Fruit Frenzy. No, Fruit Ninja Frenzy. Il tempo che ve lo carica. Io uso Google Chrome, sinceramente, poi voi siete liberi di usare Opera, Safari, Internet Explorer, anche se proprio quello ve lo sconsiglio perché per me fa cagare. C'è chi mi dice che è bellissimo e velocissimo, sono contento per voi. Allora, in attesa che carica Fruit Ninja Frenzy. Allora, io mi sono creato una pagina di Facebook dove il gioco non l'avevo cominciato, cioè me lo sono creato oggi. Dove mi chiamo Pepo Nessuno. No, 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 no. Vabbè, su Skype perché mi chiamo Nessuno. Che bella cosa. Mentre che si perde tempo, comunque dai. Allora, il gioco sta caricando. Voi sicuramente penserete, ma perché non lo facevi caricare prima, prima di iniziare il video? Stupido! Perché è bello fare le cose... Non ha perdito... Ok, vabbè, sta laggando. Ok. Eh, vai, la pagina... Oh, signor. Ok. Ci mancava pure che va tutto... Vabbè, già siamo a due minuti di video. Devo fare altri tredici minuti. Comunque, generalmente vi spiegherò le varie missioni che potrete fare nel gioco, come riuscire a fare un buon punteggio. Aspetta, questa è la pagina Facebook, ecco. Questo è il mio punteggio. Questi sono gli smoothies che ho sbloccato. Scusateci, siamo consternati. Si prega di aggiornare la pagina? Ah, vabbè, perché avevo... Quello è l'altro Facebook. Comunque, il mio punteggio ho fatto 981, quindi volendo non fa proprio schifo schifo. Ok, dai. Il gioco l'ha... Perfetto, il gioco l'ha caricato e va tutto a scatti. Perfetto. Vediamo cosa posso chiudere. Non lo so, che cosa posso chiudere per... Tralasciamo lo sfondo che è il meme. Che a me sto meme mi fa impazzire. Vabbè. Comunque, dai ragazzi, cominciamo. Non ho come cazzo andare più veloce il gioco, ma va bene così. Allora, intanto lo mettiamo a schermo intero. Perfetto. Allora, facciamo una spiegazione generale. A chi è? Allora, freeze master. Queste sono le missioni che... Che riguardano appunto il freeze, ovvero la banana con la che ghiaccia tutto. Allora, con questo... Per questa missione bisogna tagliare... No, bisogna tagliare. Allora, perfetto. Già sto partendo male. Già mi impappino. Allora. Per sbloccare questa missione dovete tagliare 5 banane freeze in una partita. Per sbloccare questa medaglia. Poi per ogni varia medaglia c'è bronzo, argento e oro. Mi sembra questa qua per... Che cazzo è bronzo? Bisogna tagliare 3 banane freeze. Per l'argento 4 e per loro 5. Tutte in una partita. Sleached in freeze. Questo bisogna tagliare... Ah, ecco. Bisogna tagliare 10 frutti in freeze. Cioè, quando è tutto ghiacciato dovete tagliare 10 frutti. Questo è il tempo totale del freeze. Ovvero, si sommano tutti i vari secondi... Si sommano tutti i vari secondi... Quindi ogni volta quando tagliate le banane... Bisogna totalizzare 60 secondi di freeze. Allora. Freeze combo. Durante... Dovete realizzare 25 combo nel freeze. Poi andiamo a frenzy master. Ora vi farò vedere come sbloccare tutte queste cose. Frenzy master... Allora, qui bisogna tagliare la stessa cosa del freeze. Qui bisogna tagliare 3 banane frenzy in una partita. Qua chiede le combo nel frenzy. Bisogna fare 4 combo durante il frenzy. Questo è il frenzy spawn. Bisogna far spawnare 250 frutti. Giocando poi si sblocca. Critical in frenzy. Questo qua bisogna fare... Se non erro... Mi sembra sia così. Bisogna fare i critici durante il frenzy. Allora, poi point master. Vediamo. Point master è la banana con la dei punti. Idem questo. Dovete tagliare 3 banane punti. Dovete realizzare... 80 punti con una banana doppio punteggio. Con questo dovete fare... 1000 punti totali realizzati con il doppio punti. E questo è... Ah ecco, durante il coso dei punti... Dei doppio punti dovete evitare una bomba. Poi ovviamente con l'oro e cose qua. Allora, questo qua sinceramente non l'ho capito bene. Io sinceramente nell'altro mio account ho preso l'oro. Ma c'entra forse con gli ananas. Non ve lo saprei dire. Questo qua dovete tagliare con un solo taglio. Cioè facendo zwa. Con un solo 5 cocomeri. O angurie. O come cazzo li volete chiamare, li chiamate. Nelle bronze le dovete tagliare 10. Non so come... Cioè io non l'ho ancora fatto. Cioè è impossibile tagliarne 10 in un solo taglio. Ma comunque. Invece questo qua. Coconut in blitz. Dovete tagliare le noci di cocco in un solo blitz. In questo caso 4. Poi più avanti. Blah blah blah. Allora. Nostra Berry Scores. Dovete fare... In questo caso 100 punti senza tagliare neanche una fragola. Poi... Ma quanti ce n'è ancora? Mamma mia. Allora. Tutto il tempo stai andando per spiegare. Allora. Questo qua... Non l'ho capito. Boh. Allora. Questo qua bisogna fare 5 critici con 5 frutti diversi. E qui dovete tagliare 5000 frutti totali. Io già ne ho tagliati 16. Qua dovete... Blitz bonus 250. Che cos'è? Non me lo ricordo. Mi pare dovete fare 250 punti di blitz. Se non erro. Comunque. Champions Ninja. Dovete realizzare un punteggio finale più di 500. Poi l'argento è 800. Poi l'oro è 1000. Always on Ninja. Bonus in game. Ora questo ve lo spiego. Ora questo ve lo spiego. Dovete realizzare dei punti finali che superano 100. Allora. Poi. Gli sarebbero i 3 punti che vi danno proprio alla fine della partita. Max un frozen combo. Ah. Ecco. Qui bisogna realizzare una combo da 6. Questo qua cos'è? Ah. Tempo in blitz. Il vostro tempo massimo in blitz. Allora. Questo è il cazzo. Allora. Non ho capito. Ho sbloccato questa missione se non ho capito come. Ninja Shadow. Hit no bombs for 8 full game. Forse non devi prendere un bombe per 8 partite. Non l'ho capito. Slice. Non so nemmeno che cazzo. Questa è liscia le bombe. Cioè devi passare con la lama molto vicino senza prenderle. E questa è fare 10 partite in un solo giorno. Per loro sono fare 50 partite. Questi invece sono i bonus quelli segreti. Ovvero non vi dice che cos'è ma io so come sbloccarli. Allora facciamo una cosa. Allora dopo avervi spiegato qua intanto guardiamo un secondo solo. Scusatemi devo vedere a quanti minuti sono. Allora già sono 8 minuti e ancora non ho fatto un cazzo. Allora vediamo. Rimettiamo schermo intero. Allora. Achievements. Allora. Cominciamo a... Allora vediamo ecco. Cominciamo con i... Quelli segreti. Ah no aspetta un attimo. Prima spieghiamo che cosa. Allora. Andiamo su dojo. Allora. Questi qua. Questo è il succo. Che serve... Il succo serve per far funzionare... No per far funzionare... Per... Per questi. Ogni partita... All'intento queste spirit bombs serve a... Mh... Le bombe diciamo nella partita... Quando voi attivate questo potere. Diciamo le bombe nella partita non le potete tagliare perché sono diciamo trasparenti. Quindi se ci passate sopra non si tagliano. Poi extra time. Questo vi da 7 secondi in più a partita. Invece di 60 secondi avrete 67 secondi di partita. Sweet Star... Questo coso... All'inizio della partita vi darà una banana casuale. Final Splash è la stessa cosa di questo. Però invece di essere all'inizio è alla fine. E avrete 5 secondi in più di bonus. Alla fine. Blitz Boss... Aumenta il blitz... Il coso dei punti di 5 punti se non erro. Combo King... Ogni combo... Diciamo le combo valgono più punti. Questo qua raddoppia i frutti nella modalità Freeze. Questo aumenta il frenzy di 2 secondi. Poi vanno tutti sbloccati con queste stelline. E le stelline le prendete appunto facendo gli achievements. Poi points bonanza che è la banana dei punti. Quando la tagliate vi da automaticamente 25 punti. Quindi già solo tagliando la banana vi da 25 punti. Se scade il tempo già avete 50 punti assicurati. Soltanto tagliando una banana. Lucky Blast. Lucky Blast che cos'era? Non me lo ricordo. Ah ecco. La prima bomba diventa una banana casuale. Non ho capito in che senso. Però va bene così. Poi bonus bounty che è esattamente che i punti dati alla fine, cioè quei punti che vi dà alla fine del gioco, i punti finali, vengono raddoppiati. Ninja Criticals, i critici invece di valere 10 valgono 15. E Insta Blitz, non lo so. Non lo so. Non lo so ragazzi questo qua. Comunque Deppi avrò fatto una spiegazione generale dei cosi, come si chiama? Di poteri. Allora. Per usare questi serve il succo e vuole 30 cosi di succo a partita. Io non mille e due ma per ora evitiamoli. Dopo li metteremo. Allora. Le stelline. Con le stelline in questo caso le potete comprare, ma sinceramente non ne vale la pena. Con 25 monete, ma ve lo sconsiglio. Poi se siete ricchi e lo potete fare, fatelo. Siete liberi di ciò. Allora. Ora cominciamo a giocare perché già mi sono rotto a parlare. Questi qua sono le varie lame. Non servono a un cazzo. Cioè come potete avere questa, come potete avere questa è uguale. Però se avete stelline da sperperare, io non ve lo consiglio. Prima compratevi tutti questi. Tutti i poteri. Poi se vi avanzano stelline vi comprate lo sfondo, che non hanno senso comunque. Allora. Cominciamo a giocare. Ah ecco, potete sbloccare pure questi due. No, news lot. No, chiudi. Potete sbloccare pure questi due. Per avere tre poteri insieme. Però servono le stelline, come avete capito. Allora. Attiviamo le tre missioni. Allora, vediamo. Cominciamo con quelli segreti. Allora, andiamo su Sensei Little Secret. Wake up. Per fare questa missione, non dovete proprio fare un cazzo. Vabbè che ora la faccio. E invece questa, single cut, è tutto in un unico taglio. Vediamo. Happy ending. Che cos'era? Happy ending. Ah ecco, devi fare un critico all'ultimo frutto. Poi questo devi sbloccare tutte le spade, sbloccare tutti i cosi, fare meno di venti. Ma comunque. Allora ragazzi, sblocchiamo questo. Facilissimo. Per sbloccare quell'obiettivo, guarda, tagliate il frutto e state fermi. Manco il mouse nuovo. Perciò sarà un minuto. Bellissimo ragazzi. Allora. Della serie com'è sperperare un minuto. Wow. Allora. Che partita inutile starete pensando. Però intanto. Se serve a sbloccare quell'obiettivo. Allora, altri 35 secondi. Comunque nel mentre che cosa vi posso dire? Ma non lo so ragazzi. Che sbloccando gli achievements vi danno le stelline. Con quelle potete comprarvi tutti i poteri per riuscire a fare mille punti, mille cinque. Un tizio, ho visto poco fa, aveva fatto botta di mille, mille sei, mille sette. Non so come cazzo ha fatto visto che io ho fatto 981. Però, se lui l'ha fatto vuol dire che si può fare. Allora, dai, la partita è quasi finita. E abbiamo sbloccato un obiettivo segreto, penso. Penso, speriamo. Allora, vediamo i punti finali. Cinque punti, dieci punti, cinquanta punti. E vediamo. Beh, ho battuto il mio record. Che sono forte. Me l'ha dato il coso? A chi? No, non me l'ha dato. Perché non me l'ha dato? No, non ci credo. Cioè, vuoi che... Non me l'ha dato. No, non ci voglio credere. Bah! Vabbè ragazzi, facciamo... Vabbè, questo qua dove... Vabbè, ve lo spiego dopo, dai. Allora, vediamo a quanti minuti siamo. Allora, mettiamo qua. Vediamo... Camtasia. Quattordici minuti. Già devo staccare, ragazzi. Eh... Farò un secondo video. Eh... Primo tutorial finito. Eh... A tra poco con il secondo tutorial. Bye bye. Bye bye. Grazie.